Era tutto scritto. Il figlio dell'uomo avrebbe sofferto. E il terzo giorno sarebbe risorto dalla morte nella sua gloria. Voi lo testimonierete. Ora il padre mio nei cieli si riconcilia col mondo. E come lui ha mandato me, così io ora mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. E andate senza timore come agnelli tra i lupi. Fate discepoli tra tutti gli uomini della terra. E battezzateli nel nome del padre. E del figlio. E dello Spirito Santo. Insegnate loro il Vangelo e i comandamenti che vi ho lasciato. E io che sono venuto dal padre, lascerò il mondo e tornerò da lui. Signore, resta con noi. La notte è vicina. Il giorno è ormai alla fine. Non abbiate paura. Io sarò con voi ogni giorno. Fino alla fine del tempo. Ciao. Grazie a tutti.